Ci troviamo sul borgo del Casale di Cappella, qualche ventennio fa Cappella è stata dotata del servizio della napoletana gas, ma questo borgo è stato diciamo così dimenticato, questa gente da tempo chiedeva che questo servizio gli fosse dato e finalmente devo dire che dopo due amministrazioni siamo riusciti a fare iniziare i lavori, presto finiranno e daremo a questo borgo la giusta attenzione che ha sempre meritato. Continua il nostro impegno e la nostra attenzione verso la periferia. Cappella in questi ultimi anni siamo riusciti a dare ciò che veramente mancava da tanto tempo, siamo riusciti ad ottenere delle aree parcheggio, siamo riusciti a iniziare i lavori per la grande passeggiata che ha regalato alla città una bella e nuova piazza intitolata anche al nostro caro amico caduto in Afghanistan, Michele Silvestri. In più abbiamo inaugurato una biblioteca a nome del nostro concittadino Michele Sovente, da poco scomparso, abbiamo dedicato anche una piazza a lui. Cappella necessitava di un intervento per Fognario che da fatiscente da decenni, si ricordava i tempi quando la strada di Cappella apparteneva alla provincia e gli ultimi interventi risalivano veramente a decenni fa. L'abbiamo dotato di una nuova fogna, evitando anche il pericolo di infiltrazioni e diciamo che la nostra attenzione per Cappella è tanta, il sindaco Franco e Annuzzi non si sottrae mai ad intervenire per migliorare le condizioni e dare più servizi a questa frazione e io ne sono felice perché appartengo a questa gente, risiedo in questo posto e tutto ciò che avviene a favore di questa comunità mi fa inorgoglire e mi fa insomma essere felice.